Ciao amici, eccoci qui come promesso con l'organizzazione del pranzo solidale per la Pasquetta. Io come presidente di Motore Metropolitano, l'associazione di cui già vi ho parlato, che si occupa di tutela del benessere e aiuto dei cittadini, insieme a Protetto, qui abbiamo il presidente Fernando Barone e l'amica chicca indiscutibile e ineguagliabile che si batte sempre per i poveri, stiamo organizzando, come vedete, mettiamo giù i tavoli per il pranzo solidale di Pasquetta, è quasi tutto pronto, avremo molti senza tetto, abbiamo già diffuso l'informazione con comunicati stampa, stiamo definendo le ultime cose, i panini, la pasta, come organizzare anche i volontari che molti ci hanno chiesto di poter partecipare all'evento. Fernando, dici tu qualcosa di questo evento? Posso dire che speriamo che sia una bella festa, sicuramente lo sarà, tanti verranno a posto per questo incontro, sono nostri amici ormai perché i nostri senza tetto sono diventati amici, per cui sarà una bella giornata, diciamo, da passare insieme e invece di andare a fare la solita scampagnata la passeremo insieme a loro per dargli un attimo di tranquillità, serenità, pace, sorrisi e queste cose qua, insomma. Io farei parlare più la chicca che è più intraprendente di me. Tienimelo te però. Ciao, io anche con le stampelline, come vedete, sono qua anche io a organizzare perché ci tengo molto che questa associazione fa delle cose molto belle, molto grandi e quindi, niente, ci vediamo a Pasqua, ragazzi. Buona Pasqua a tutti. Ciao, ciao. E quindi grazie Daniela di aver fatto questa cosa, insomma. Grazie di averci messo la faccia, la presenza e soprattutto le risorse. Grazie a te e a tutti i tuoi amici, i tuoi sponsor. Grazie. Figuratevi, qualsiasi persona voglia intervenire può contattare Protetto su Facebook o me o Motore Metropolitano o qualsiasi persona di noi. Ripeto, Enrica Pavesi, Fernando Barone e Daniela Reo, Protetto e Motore Metropolitano. Ringrazio gli sponsor che ci consentono tutto ciò. Se qualcuno volesse venire a fare il volontario, a Pasquetta è il benvenuto. Grazie.